Io sono Mario Pignocchino, sindaco di Vische. Sono venuto all'incontro con il Presidente Saitta per portare i problemi del mio Paese alla conoscenza della provincia. I problemi principali che abbiamo sono quelli sulla viabilità, poi ce ne sono di carattere economico delle proposte sull'ambiente per verificare la possibilità di sviluppo turistico.